Basta, non ce la faccio più. Io mi butto! Era solo un sogno. Perché dovrei buttarmi da una finestra? Sono così ricco e famoso che ho bisogno di buttarmi dalla finestra. E salve a tutti e bentornati all'angolo della risata con ZE Crazy Gamer, l'unica rubrica che porta qui su YouTube. Barzellette di altissimo livello. Allora, iniziamo col mostrare i nuovi ospiti che ho dovuto mettere lì, i posti stanno finendo. Vedete, voi che avete scritto vi riconoscete sicuramente, a meno che non abbiate tutti la stessa skin e in quel caso potrebbe essere chiunque di voi. Bene, iniziamo con la prima barzelletta che so che siete ansiosi di ascoltare con il premie per aprire l'inventario che si è buggato di nuovo e non se ne andrà mai. È ormai una costante di questo spettacolo. Iniziamo con la prima barzelletta. Al ristorante un taler in prova del cameriere che gli ha appena portato la zuppa. Guardi, che l'ho vista con il suo dito dentro al mio piatto, protesta. Abbia pazienza, né la fretta può capitare, si scusa il cameriere. Beh, la prossima volta lo tenga a freno, il suo alluce. Passiamo alla seconda barzelletta della giornata. Due bambini giocano con un aquilone in un prato. E il primo dice all'altro Non farlo volare troppo in alto, altrimenti si impiglia tra quelle nuvole. Passiamo infine all'ultima barzelletta della giornata. A scuola, durante l'ora di matematica, la maestra chi dà gli alunni? Una mamma ha sei figli e nove mele. Vuole che ogni figlio abbia la stessa quantità di mele. Che cosa farà? Allora un alunno alza la mano per primo e risponde La torta di mele. Grazie a tutti per avermi seguito anche in questo nuovo episodio dell'angolo della risata. Vi ricordo che se volete essere aggiunti al pubblico, mancano pochi posti, quindi affrettatevi. Scrivete il vostro nick e io vi sistemerò. Se non scrivete il vostro nick, io non posso aggiungervi. E se volete essere salutati, scrivetelo in un commento. Quindi, grazie a tutti per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao a tutti!